Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ha incontrato il subcommissario per la ricostruzione post-sisma Fulvio Soccodato al centro dell'appuntamento alla cosiddetta Ordinanza Teramo, ovvero il provvedimento con il quale la struttura commissariale guidata da Giovanni Legnini attribuirà al Comune potere in deroga per gestire la ricostruzione di una serie di edifici pubblici. Insomma, un ulteriore passo per l'accelerazione della ricostruzione pubblica sul nostro territorio. Come amministrazione fin dal nostro insediamento abbiamo impresso un'accelerazione importante, stiamo andando avanti, non è assolutamente ferma la ricostruzione sul nostro territorio, anzi abbiamo programmato tutti gli interventi con particolare riferimento al patrimonio scolastico. In questa fase stiamo definendo, andando a conclusione, la cosiddetta Ordinanza Teramo, l'ordinanza sui poteri speciali che abbiamo chiesto al commissario per poter accelerare le procedure in deroga a quelle che sono le misure previste dalla normativa vigente, un po' sul modello Genova. È un problema che riguarda tutto il cratere sismico del centro Italia. La ricostruzione pubblica ha scontato di fatto ovunque questi ritardi normativi, il fatto di aver dovuto agire con misure ordinarie in una condizione di straordinarietà. Quindi l'obiettivo è assolutamente quello di avere questi poteri speciali sul patrimonio scolastico, incrementare il contributo con la previsione anche della scuola Molinari che diventerebbe quindi una scuola a giolli, un polo scolastico naturale, funzionale alla ricostruzione del patrimonio scolastico e la sede municipale. Contestualmente si sta ragionando con la Regione Abruzzo sull'inserimento, abbiamo richiesto anche diverse settimane fa, anche del patrimonio ATER all'interno di quegli interventi che devono godere del potere commissariale straordinario e quindi dei poteri speciali per poter accelerare il rientro nelle abitazioni di tante famiglie terramali. Per arrivare a questi poteri, Sindaco, quanto tempo bisognerà ancora aspettare? È stato un incontro tecnico dove abbiamo definito tutte le questioni di carattere tecnico. l'ospicio è poter arrivare in cabina di coordinamento tra aprile e maggio, quindi i tempi sono assolutamente stretti, stiamo accelerando e devo ringraziare la struttura commissariale, l'ufficio speciale della ricostruzione, l'ingegnere Soccodato, oltre ovviamente al commissario Lenini, perché si sta imprimendo un'ulteriore accelerazione su un percorso che noi abbiamo già avviato subito dopo il nostro insegnamento, avendo ereditato una situazione totalmente ferma.